Ciao a tutti sono Yolanda. Per la ricetta di oggi ho deciso di preparare gli involtini alla messinese. Questa non so se è la ricetta ufficiale, deriva principalmente da quelli che ho mangiato e dai consigli che ho ricevuto nel tempo. Per prima cosa innanzitutto preparo la panatura utilizzando pan grattato, sale e parmigiano grattugiato. Per quanto riguarda la carne invece ho utilizzato il carpaccio di vitello. È la più giusta a mio avviso per questo tipo di preparazione. Il risultato sarà eccellente, praticamente i vostri involtini si scioglieranno in bocca. Adesso procediamo con l'assemblaggio. Ho tagliato le fette di carne in tre parti in modo da avere la dimensione perfetta per fare gli involtini. Prendo una fetta di carne, la bagno nell'olio. Potrete utilizzare sia quello di oliva che quello di semi. Successivamente la paniamo nel preparato di pan grattato che abbiamo fatto precedentemente e poi lo arrotolo con all'interno un pezzettino di burro. Se lo desiderate ma non è un passaggio necessario potrete chiudere le estremità dei vostri involtini utilizzando due stuzzicadenti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.